Ma una soluzione si potrebbe trovare. Io ho pensato a questa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente sui social ci sono doppiatori e direttori di doppiaggio che parlano della grande crisi che è presente in questo periodo nel mondo del doppiaggio, dato che il lavoro è poco. E poi ci sono alcuni di loro che spiegano anche un determinato percorso che potrebbero fare per poi farsi conoscere e diventare magari doppiatori professionisti. Ma poi d'altro canto ci sono gli aspiranti doppiatori che dicono che questa possibilità non ce l'hanno. Vengono bloccati già alla porta d'ingresso perché non si sa. Quindi i loro sogni vengono bloccati già all'inizio. Quindi io ho immaginato che ci sono due persone tipo, il direttore di doppiaggio e un aspirante doppiatore, che si confrontano. Quindi io direi di non perderci in chiacchiere e... Ciao a tutti, sono un aspirante doppiatore. Ciao a tutti, sono un direttore di doppiaggio. In questo dibattito sinceramente volevo presentare le mie problematiche o perlomeno le mie sensazioni. Prima di tutto, a me il doppiaggio sin da piccolo mi è sempre piaciuto. All'inizio ho fatto dei doppiaggi per conto mio, poi non essendo né di Roma, né di Napoli, né di Milano, ho cercato sui social e ho trovato alla fine che ci sono alcune scuole che fanno le lezioni online. E da lì ho intrapreso il mio percorso, appunto ho migliorato tantissimo la mia dizione, la mia recitazione. E ora niente, volevo dire che ho finito il mio percorso. Però non mi danno la possibilità ai direttori neanche di assistere, io non pretendo di fare il brusio, ok? Però almeno di assistere. Cioè non mi date la possibilità di assistere, io voglio capire il perché. Ma a prescindere da tutto, anche se non voglio assistere, voglio fare il brusio? Neanche. Voglio fare il provino? Neanche. Cioè, io vedo che c'è questa realtà, ma poi vedo che il figlio del doppiatore invece ha questa possibilità. Posso sapere il perché? Sono contento che ho fatto una scuola di doppiaggio, ma tu la scuola di doppiaggio non l'hai fatto per me, l'hai fatto per te. È una cosa molto importante. Perché tu ti devi mettere in una condizione tale per poi presentarti da lui e poi, e senti, questa è una cosa che mi dà molto fastidio, questa storia del nepotismo, del nepotismo, ovvero noi chiediamo la possibilità sui figli dei doppiatori, degli assistenti. Prima di tutto non è così perché ci sono tantissimi doppiatori che sono bravissimi, grandi doppiatori e non sono figli di assistenti o doppiatori o direttori di doppiaggio. Ti faccio un esempio, Maurizio Merluzzo non è tra questi. Maurizio Merluzzo non è figlio di doppiatore, è figlio di operai ed è un grandissimo doppiatore, prima di tutto. Dovete anche vedere, se io ho messo un figlio di un doppiatore, lui era preparato e poi, scusate, una cosa molto importante, non è che le persone si diplomano e poi pretendono il lavoro, ma che pretendete il lavoro? Ma se non c'è la possibilità neanche per noi doppiatori professionisti, che a volte ci sono i doppiatori professionisti a casa, cosa pretendi tu? Che ti diamo il lavoro? Ti veniamo a cercare? O anche se stai lì in sala, che tu guardi e aspetti, ok? Che cosa fai? Non pretendi che prima o poi ti chiamo o perlomeno me lo fai fare un provino, me lo fai fare una cosa? No, perché se stanno doppiatori professionisti a casa, come faccio a farti fare qualcosa a te? E poi ricordati che io, direttore di doppiaggio, non è detto che quello che propongo viene alla fine esaudito, perché dipende anche dalla casa di produzione, dal cliente che mi paga, e poi magari ti faccio fare il provino, ho perso tempo, perché magari ancora non sei preparato, credevi di essere preparato, ma alla fine non lo sei, e che cosa ho fatto? Tu vieni deluso, vieni offeso, parli male di me, e poi magari c'è il figlio di un doppiatore che è più bravo di te, e tu vai a parlare di nepotismo, questa è anche la realtà. Allora, per la questione che ci sono doppiatori professionisti a casa, questo lo capisco, ma tu non mi puoi paragonare a un doppiatore professionista, non puoi paragonarmi, cioè ma tu mi paragoni a Francesco Pannofino, a Luca Ward, a Nani Baldini, a loro mi paragoni tu, io non potrò mai fare il ruolo di un doppiatore professionista, assolutamente, io quello che pretendo magari è di fare un brusio, di fare un provino, dammi la possibilità di farmelo fare, non che tu mi blocchi all'inizio, ma se tu non sai neanche se io sono bravo o no, o se non mi dai neanche la possibilità di farmi vedere, di farmi conoscere, tu come puoi sapere se io sono bravo o posso fare un determinato ruolo, tu invece mi blocchi all'inizio, perché tu sei sistemato, ormai la tua carriera l'hai fatta, hai i tuoi preferiti, e poi ci sono alcune persone che ci dicono questo è il percorso che dovete fare, che poi la maggior parte sono anche figli di doppiatori, quelli che dicono cose del genere. Voi non dovete pretendere qualcosa, avete fatto un percorso da aspiranti doppiatori, siete andati nelle scuole, ok, va bene, però che pensavi, che uscivi dalla scuola o magari la scuola ti proponeva il lavoro? Tu lo sapevi, magari che non sei di Roma, di Napoli, di Milano, lo sapevi, quindi sapevi che alla fine di questa scuola dovevi fare dei sacrifici, che pretendevi che tu ti credevi il professionista della situazione, e quindi, giustamente, noi dovevamo vedere te, cercare te e dire sei il più bravo, madonna mia, aspettavamo te da una vita, noi non aspettiamo nessuno, sei tu che hai bisogno di noi perché tu vuoi realizzare il tuo sogno, quello che manca non sono i doppiatori, ma il lavoro, lo vuoi capire? Tu sapevi che dovevi fare determinati sacrifici, tu sapevi che dovevi venire, tu sapevi che dovevi prendere delle valigie, dovevi mettere da parte dei soldi, per poi venire da noi e cercare di entrare, e invece no, tu pretendi, giustamente, giustamente, perché da parte tua hai speso dei soldi, hai fatto dei sacrifici, tu pretendi da noi che noi ti dobbiamo ascoltare, te lo ripeto, noi non abbiamo bisogno di doppiatori, abbiamo bisogno di lavoro, se noi non abbiamo lavoro per noi, come facciamo a darlo a te, il lavoro? Sì, ho capito quello che dici tu, ho capito, però, appunto, non ti sto chiedendo il ruolo, ti sto chiedendo di essere presente in sala doppiaggio, o perlomeno ti incontro e ti chiedo, scusami, se domani ti mando un dabbril, lo puoi vedere, visto che non fate fare i provini, almeno fate questo, almeno dateci la possibilità, noi spendiamo tantissimi soldi, sia per i corsi di doppiaggio, per venire da voi, per fare le lezioni in presenza, siamo figli di operai, siamo persone normali, alla fine, almeno questo, almeno per parlare, per confrontarci, però, poi vedo, ad esempio, l'influencer che doppia, e non è giusto, perché l'influencer, solo perché magari, ha tanti followers, tante persone che seguono, loro vengono scelti, e io che ho fatto tanti anni di sacrifici, tante cose, non vengo neanche ascoltato, neanche per un dabbril, ci possiamo mettere d'accordo, fare qualcosa, invece no, ci bloccate all'inizio, ed è veramente bruttissimo, ho immaginato sinceramente questo dibattito, come potete ben capire, nessuno di loro due ha ragione, e nessuno di loro due ha torto, ma una soluzione, si potrebbe trovare, io ho pensato a questa, io da aspirante doppiatore, propongo queste due soluzioni, la prima soluzione, la prima soluzione è, che magari voi fissate, delle giornate, magari per inviare dei dabbril, però che devono essere analizzati, da uno staff, dove ci danno anche un riscontro, perché nel caso in cui, di riscontro negativo, tipo, questo staff ci dice, devi migliorare l'addizione, devi migliorare questo, ancora non sei pronto per avvicinarti, e invece, in caso di riscontro positivo, date a queste persone, la possibilità di entrare, negli studi di doppiaggio, per poi anche ascoltare, però almeno invece di venire 10.000 persone, vengono molte di meno, ne vengono 100, perché voi avete fatto già, una specie di schernitura, almeno così anche, per coloro che non vengono scelti, hanno la possibilità di essere, valutati, e gli altri invece, hanno la possibilità di assimilare, quelli che sono ancora più pronti, può essere a pagamento, va bene, una piccola quota la diamo, tipo, un 10 euro, va bene, per essere valutati, va bene, oppure fissate nelle sedi, del nord, del centro, del sud, delle giornate di ascolto, dove si possono fare determinati, doppiaggi, così noi abbiamo anche, la possibilità, di farci ascoltare dal vivo, per fare le giornate di ascolto, come dici tu, quelle dal vivo, ci deve essere un'organizzazione, quindi immagina, che dobbiamo spostare, doppiatori per giorni, per almeno 2-3 giorni, in determinate sedi, quindi, quello, il pagamento sarà maggiore, perché logicamente, dobbiamo pagare l'albergo, dobbiamo pagare, lo studio di registrazione, dobbiamo organizzare, tutte queste cose qui, quindi il prezzo, sicuramente sarà maggiore, per il fatto dei dabbril, sì, però, vi deve mandare, un doppiaggio, di massimo, un minuto, e me ne può mandare, al massimo, uno, perché io devo dare la possibilità, ad altre persone, di essere ascoltate, perché se poi mi trovo, ogni mese, sempre la stessa persona, io ho tolto la possibilità, ad altre persone, di fare una cosa del genere, questo è quello che ho pensato io, non è detto che queste soluzioni, siano le soluzioni giuste, o le soluzioni ideali, però almeno, dà la possibilità a tutti, e io un'altra cosa, che direi anche, a tutte quelle persone, aspiranti, doppiatori, come me, e io mi metto in ballo, in queste cose qui, a quelle persone, che fanno il brusio, io, non pretenderei un pagamento, per avere la possibilità, solo di essere ascoltato, solo di farmi notare, datemi la possibilità, anche di dire, no, pensavo che fosse meglio, beh ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che sia stato interessante, logicamente nel mio canale, potete trovare, doppiaggi, audiolibri, curiosità sui film, e a prescindere da tutto, tutto questo, che è presente nel mio canale, voi lo potete vedere, e volete sapere, perché lo potete vedere, perché è gratis, ciao a tutti, al prossimo video,